Ciao a tutti amici di Beer Channel e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del rigogolo. Molti lo definiscono limone volante per il suo piumaggio giallo acceso. Il rigogolo è diffuso in tutta Italia, tranne che sull'arco alpino. Fa parte della famiglia degli orioli, che vanta specie in tutto il mondo. Questo uccello ama stabilirsi su alte piante come i pioppi e in prossimità d'acqua. Predilige anche i frutteti e le foreste di querce. Il maschio in questa immagine è quello sotto e come possiamo vedere è ben differente dalla femmina. Infatti ha un piumaggio molto più acceso e colorato. Le sue dimensioni sono medio piccole, infatti non supera i 23 cm di lunghezza. Il peso si aggira intorno ai 70 grammi. Il suo canto molto caratteristico si può sentire da marzo-aprile per tutta l'estate. Dopo di essa il rigogolo tende a svernare in Africa. Ecco una breve traccia del suo canto. Come potete sentire, canto molto facile da riconoscere. Se vi interessa ho pubblicato anche una traccia del suo canto sul mio canale YouTube e se vi interessa andatevela a vedere. Nonostante i suoi colori sgargianti, è un uccello abbastanza complicato da vedere in quanto trascorre le sue giornate nell'affitta vegetazione e di rado scende dagli alberi. Le uniche occasioni in cui scende possono essere per fare dei bagni o bere. Come possiamo immaginare, la femmina è ancora più difficile da vedere in quanto ha proprio dei colori più mimetici del maschio. A volte capita di vederli di passaggio, ma hanno dei voli molto veloci e corti. Il rigogolo si nutre principalmente di insetti durante la primavera, accompagnati da molluschi e ragni. D'estate, quando i primi frutti maturano, il rigogolo si sposta nei frutteti in quanto la sua dieta diventa principalmente frugivora. A inizio autunno, invece, predilige fichi e alcune bacche che maturano in quel periodo. Ma ora parliamo della sua riproduzione. La stagione riproduttiva si apre con diversi inseguimenti fra i sessi, che danno poi origine alle coppie. I primi nidi vengono costruiti tra maggio e giugno. Il nido viene costruito in alto, circa 20 metri, lontano dal tronco principale e soprattutto in un punto in cui la vegetazione riesce a coprirlo bene. Viene costruito su una forcella, in modo tale che sia una sorta di amaca. Solo la femmina partecipa alla costruzione e il maschio si limita a osservarla mentre canta. Le uova dei posti sono solitamente dalle 3 alle 4 e hanno un colore bianco. L'incubazione è completamente affidata alla femmina, mentre il maschio comunque fa la guardia. I giorni di incubazione vanno dai 14 ai 17 giorni. Quando i piccoli nascono, ci mettono circa due settimane a iniziare a volare. La prima migrazione viene effettuata insieme ai genitori, mentre poi diventano completamente indipendenti. Solitamente c'è solo una covata durante l'anno, ma a volte può capitare che ce ne siano anche due. Il rigogolo, inoltre, è un uccello migratore. Infatti, nelle stagioni più fredde, si sposta verso sud. Bene ragazzi, il video finisce qui. Spero di avervi dato delle informazioni utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!